Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Il peschereccio affondato a largo di Fano, ulteriori indizi si attendono dalla traduzione in italiano dei dati contenuti nella scatola nera dell'imbarcazione Migliorano le condizioni dei feriti nell'incidente di ieri a Lucrezia di Cartoceto sono tutti fuori pericolo Un referendum sul digestore anaerobico la proposta arriva dall'ex consigliere Del Vecchio che si dice pronto a raccogliere i feriti Politica incandescente dopo l'attacco della Lega oggi arriva la risposta del 5 Stelle e di Marta Ruggeri Tutta questa gran polemica per un piatto di lenticchie insomma Da un sindaco in famiglia fino a che barba tutti i format del sindaco di Pesero Matteo Ricci e che lo hanno reso popolare sul web Sbarca a Civitanova la Supercoppa del Monte evento pallavolistico a livello mondiale Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Dunque apriamo con le ultimissime sul peschereccio croato che alcuni giorni fa è affondato a largo davanti alle coste fanese Adesso i magistrati cercheranno di interpretare, di capire meglio ciò che c'è all'interno della scatola nera Resta sotto sequestro nei cantieri della Mare Leaf di Fano il peschereccio croato di 12 metri naufragato a poche centinaia di metri dalla costa di Torretti di Fano alle 4.30 della notte tra il 27 e il 28 settembre Tutta da ricostruire ancora la dinamica che ha portato il peschereccio con due marinai a bordo partito da Pola ad incagliare sulle scogliere soffolte a 200 metri dalla riva ed ad invertire poi la rotta per colare a picco con le falle aperte a 700 metri Il titolare del fascicolo, l'APM il sostituto procuratore a Evalieri a Cigliola della procura di Pesaro in un incontro avvenuto nella giornata odierna con l'autorità competente ovvero il capo del compartimento marittimo provinciale Maurizio Tipaldi ha chiesto un supplemento di indagine Verrà analizzata una specifica strumentazione un tracciatore di rotta una sorta di scatola nera non in uso alla marineria italiana e per fare questo verrà appositamente dalla Croazia un tecnico specializzato per decodificarlo e rendere così disponibili i dati agli inquirenti Il punto chiave che si cerca di ricostruire della questione è appunto la rotta tenuta dal natante dato che le perquisizioni effettuate alla capitaneia sull'Andrea una volta recuperato e tirato a secco sembra che non abbiano dato spunti particolari all'indagine perché il peschereccio partito da Pola con intenzione di pesca dato che avevano ancora issate a bordo tutte le reti mette il pilota automatico i marinai si addormentano tutti e due prima di buttare le reti solitamente questa è una cosa che si fa dopo e comunque uno rimane sempre sveglio attraversa tutto l'Adriatico senza trovare un ostacolo un'altra imbarcazione che li incrocia e si trova a 70 miglia nautiche dal punto in cui si doveva trovare e perché una volta schiantatosi contro le scogliere i marinai non hanno fermato le macchine e lanciato l'SOS l'Andrea ha toccato mentre stava avvicinandosi alla costa fanese o mentre si stava allontanando dalla costa tutte domande che attendono una risposta dalle indagini ancora in corso c'è un aggiornamento sull'incidente che è avvenuto ieri intorno all'ora di pranzo a Lucrezia di Cartoceto migliorano le condizioni di salute delle cinque persone coinvolte la donna che era stata portata in elicottero alla torrete di Ancona in codice rosso e che era alla guida della Citroen C3 è stata dimessa in giornata ed è tornata a casa per lei si parla di forti contusioni al bacino i due bimbi piccoli invece sempre passeggeri della C3 rimangono ricoverati in ospedale in osservazione nel reparto di pediatria di Pesaro migliorano anche le condizioni dell'altra donna al fianco della conducente che rimane anche lei a San Salvatore come normale decorso post-trauma la donna al volante invece della Multipla impazzita per un guasto improvviso ai freni e che ha centrato la Citroen per poi schiantarsi contro la centralina del gas metano resta invece ricoverata all'ospedale di Fano con gravi lesioni ad entrambe le caviglie lasciamo la cronaca e parliamo del digestore anaerobico che si dovrebbe almeno le intenzioni costruire nel fanese nell'entroterra fanese si parla di falcineto o bellocchi torniamo a parlare di questo digestore soprattutto perché oggi c'è la notizia che potrebbe essere avviato un referendum per un referendum consultivo comunale servono 2500 firme occhi e croce un ventesimo del corpo elettorale raccolte in 90 giorni dopo che viene autorizzata la raccolta da parte degli uffici comunali competenti sono questi termini ai quali i 10 firmatari che porteranno in comune la proposta di referendum si dovranno attenere il quesito che verrà posto ai cittadini qualora venga accettata la proposta referendaria è questo vuoi che il comune di Fano costruisca un digestore anaerobico nelle frazioni bellocchi o falcineto di Fano? croce sul sì o croce sul no ma la strada per arrivare a questo è ancora lunga uno dei promotori dell'iniziativa è un navigato esponente della politica fanese Davide Del Vecchio dell'UDC che sull'argomento ha prodotto in passato un copioso e documentato dossier e che abbiamo incontrato questa mattina a 200 metri in linea d'aria da dove nella zona industriale di Bellocchi dovrebbe eventualmente sorgere l'impianto il quale però si cava anche qualche sassolino dalla scarpa con i suoi ex compagni d'opposizione su temi così delicati non possono essere le parti politiche che dividono, che decidono il futuro e le sorti dei territori ma è bene che come prevedono gli strumenti democratici siano i cittadini a decidere mi auguro che il sindaco prenda spunto dal fatto che è democratica, è democrazia far votare i cittadini appoggi il referendum così come tutte le parti politiche possono aderire a questo referendum sono stato cacciato di allarmismo tacciato di fare in qualche maniera solo scandalo per avere un vantaggio politico e devo dire che anche la mia parte politica il centrodestra non mi ha affatto aiutato anzi mi ha lasciato completamente solo voglio ricordare che sono stato da solo a presentare questi documenti in consiglio comunale e a portarli all'attenzione della città la lega in primis non ha assolutamente aiutato forse perché citavo in quei documenti il più grande digestore anaerobico che è in Lombardia che serve tutta la Lombardia tanto per essere molto chiaro quindi oggi si straccia le vesti ieri non era assolutamente di questo parere quindi al di là dei partiti vogliono starne proprio fuori visto che anche con una manovra di palazzo hanno cercato di tenermi fuori dalla vita politica di questa città io chiedo invece ai cittadini di buona volontà che hanno voglia di aiutare di far parte di questo comitato referendario di attivarsi di contattarmi nei canali social che ho i prossimi giorni comunque mi attiverò per dare tutti i dati abbiamo già dei piccoli gruppi nei vari quartieri che sono interessati a portare avanti questo referendum e mi auguro che alla fine poi sia una cosa veramente di tutti i cittadini che non ci si divida sempre per ogni piccola questione ma che si cerchi la soluzione migliore per la città e per la salute dei cittadini e la politica locale si scalda anche per un'altra questione in particolare quella che vede coinvolte contrapposte la lega di Fano con il movimento 5 Stelle e la questione è quella della rappresentanza in minoranza nel comune in consiglio comunale sentiamo nessun patto del Nazareno nessun inciucio richiesta di appoggio esterno o promesse di alcun tipo ma soprattutto nessuno sgarbo istituzionale è molto serena ma ben chiara la risposta della diretta interessata a riguardo della scintilla che ha dato fuoco alle polveri della lega di Fano Marta Ruggeri liquida velocemente la vicenda alla base dello scontro tra opposizioni in atto mentre invece affonda il coltello sui retroscena delle manovre pre-ballottaggio per accaparrarsi i voti dei pentastellati c'è stata una cena e un incontro col sindaco Seri non è stato assolutamente un incontro carbonaro bensì un momento di condivisione di persone che si occupano di politica da tanto tempo in effetti il sindaco Seri era da diversi anni che ci diceva che avrebbe avuto piacere di scambiare delle idee con noi sulla città e quindi dopo la pausa dovuta al riposo post-elettorale insomma c'è stata questa occasione e si è dimostrato un momento piacevole dal punto di vista politico poco costruttivo sinceramente però comunque è stata una serata interessante ma è particolare questo atteggiamento da parte della Lega io vorrei ricordare solo che al ballottaggio poco prima del ballottaggio il centro-destra Lega in testa sono venuti proprio a casa mia ad offrirmi la poltrona da vice sindaco e la metà degli assessorati quindi la risposta è stata chiara già all'epoca perché hanno ricevuto un no secco e mi sorprende che loro che hanno avuto questa esperienza con noi e quindi hanno verificato la nostra serietà abbiano costruito tutta questa gran polemica per un piatto di lenticchie insomma come se ci fossimo voluti vendere per un piatto di lenticchie ecco non è così ed invito gli amici della Lega a occuparsi di temi un pochettino più seri evitare le polemiche da pollaio vi dimetterete dalle vostre vice presidenze se se ser Filippi ci tiene tanto visto che nella mia commissione quella bilancia ad avere la vice presidenza se mi chiama e me lo chiede in modo gentile io sono disponibile a lasciargliele e la politica è in fermento anche a livello regionale il consigliere Federico Talè abbandona il partito democratico per aderire al progetto politico di Italia Viva determinante racconta Talè è stato un lungo confronto telefonico che ho avuto questa mattina con Matteo Renzi così dopo una approfondita riflessione ho fatto la mia scelta tutt'altro che è facile riprende poiché lasciare un partito dopo molti anni è anche una scelta umana l'ho fatta riconoscendo in Italia viva quel positivo e coraggioso tentativo di promuovere politiche riformiste e progressiste su sviluppo lavoro e diritti che io ho da sempre sostenuto per quanto riguarda le deleghe alla sanità e alle politiche sociali attribuitegli dal governatore ceriscioli nell'ottobre del 2018 tale è precisa la decisione spetta al presidente ed io sono disposto naturalmente a proseguire su questa decisione infine di seguire Renzi tale è chiosa non tutti capiranno o condivideranno ma è normale perché questa è la politica questa è la vita e adesso andiamo a Pesaro a Pesaro prenderanno il via a novembre le iniziative aperte in città e promosse dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci che saranno riprese in diretta anche e soprattutto attraverso i social network a pochi mesi dalle elezioni Matteo Ricci rilancia il campionario di format collaudati per continuare a innovare la partecipazione cittadina confermando modi di stare in mezzo alla gente che gli hanno consentito di parlare a gran numero di persone si partirà da novembre il sindaco andrà avanti ogni mese con una cena nelle case dei pesaresi e un taglio di capelli o barba nelle boutique non mancheranno i passaggi agli universitari diretti ad Ancona Bologna e Urbino che discuteranno dei nodi della città con Ricci alla guida in primavera si aggiungeranno alla lista le camminate nei quartieri che hanno avuto una media di 200 persone a iniziativa dopo le feste natalizie infine l'appuntamento con la ginnastica per smaltire tra centro storico e mare vogliamo confermare e rilanciare dei format che mi hanno consentito di parlare e coinvolgere migliaia di persone facendo diventare protagonisti le famiglie o i locali che mi hanno ospitato se si crede nella partecipazione bisogna innovare bisogna rischiare perché mi hanno preso anche tanto in giro per questi format ma sono il loro successo è la dimostrazione che si deve provare a cambiare la partecipazione e si deve provare a tenere insieme la partecipazione reale con quella social in modo tale che il tutto possa in qualche modo amplificare e al tempo stesso creare un rapporto costante con i cittadini le iniziative del sindaco aperte e la città hanno coinvolto migliaia di utenti attraverso i social e le dirette facebook dove i cittadini hanno partecipato attivamente alla condivisione dei temi discussi ad ogni appuntamento raggiungendo le 7 mila visualizzazioni le domande di richiesta si potranno fare al seguente indirizzo e mail oppure sui canali social del sindaco torna anche quest'anno nel quartiere di Sant'Orso a Fano il decimo torneo di pallavolo aperto a tutte le famiglie e alle scuole di Fano quest'anno portiamo avanti l'iniziativa piuttosto che il volo dei genitori come gli anni passati abbiamo cercato di allargare la familiarità effettivamente proprio per cercare di fare sempre più aggregazione e far piacere poi ai figli dei genitori ai fratelli e via dicendo infatti la caratteristica di questo torneo è proprio quello di portare in campo le famiglie di una classe in rappresentanza del proprio figlio appunto del proprio parente quest'anno due classi si potranno unire cerchiamo proprio di fare più possibile aggregazioni divertimento solidarietà perché poi tutto quello che entrerà con le iscrizioni oltre all'assicurazione che grazie al CSI garantiremo a tutti i partecipanti andrà in beneficenza ad una Ollus della città oltre anche alla scuola Filippo Montesi che ci aiuta in questa organizzazione per i scopi didattici naturalmente chiedo naturalmente anche qui di iscriversi entro il 4 novembre che poi da metà novembre il torneo comincerà è un bel torneo serve proprio per fare aggregazione conoscerci nel tempo tante famiglie tanti genitori tanti bambini si sono conosciuti grazie a questo torneo bambini il primo pensiero che devono essere i primi tifosi della loro squadra della loro classe per iscriversi i cantati sono i miei 328 88 68 685 o piero.valori chiocciolalibro.it si svolgerà invece domenica prossima il quinto trofeo Lamberto Tonelli il ritrovo è previsto alle 8 in piazza 20 settembre a Fano confermato il percorso itinerante tra le vie del centro storico e sul lungomare di Sassonia per poi passare costeggiare le storica mure romane e tutto questo per un totale di 10 chilometri prevista anche un'iniziativa che prevede la camminata una camminata ludico-motoria di 5 chilometri aperta a tutti il ricavato delle iscrizioni verrà destinato alla campagna raccolta fondi in favore di Riccardo Baldini abbiamo parlato prima di pallavolo ma c'è un evento davvero di altissimo livello che sta per arrivare all'Eurosole Forum di Civitanova Marche ed è il grande evento della Supercoppa del Monte I riflettori dell'Eurosole Forum di Civitanova Marche si accenderanno l'1 e il 2 novembre per la Supercoppa del Monte evento sportivo di pallavolo di alto livello con le migliori squadre tra cui l'Ube che da quest'anno li vede campioni in carica d'Italia ed Europa questa Supercoppa ha anche una formula molto interessante perché una manifestazione a inizio campionato con le quattro squadre migliori del precedente campionato credo che sia uno degli eventi più importanti per la pallavolo italiana il grande evento che si svolgerà nelle Marche dimostra anche la capacità organizzativa della società in una regione dove il volley maschile e femminile è una delle discipline più amate e seguite e tra le più praticate dai giovani sarà un evento con tante novità innanzitutto ci piace ricordare che Del Monte per il nonno anno consecutivo è sponsor di questo evento quindi una partnership lunghissima e poi grandi novità innanzitutto la possibilità di vedere regole nuove in campo avremo solo un time out per gli allenatori ogni set invece che due avremo la possibilità di accorciare i tempi di cambio tra un set e l'altro quindi riducendo da 3 a 2 minuti contiamo che di poter offrire sia un grande spettacolo agonistico tecnico con questa novità e anche appunto di valori morali quelli sono quelli che vogliamo perseguire abbiamo i campioni d'Europa in carica quindi la Lube Civitanova abbiamo i campioni del mondo l'Itastiac di Trento abbiamo due squadroni come Modena e come Perugia che rappresentano la crema della pallavolo mondiale soddisfatto il presidente Ceriscioli nel quale da sempre la regione pone un'attenzione allo sport quale fattore di crescita di una comunità di benessere e sviluppo lo sport come immagine come proiezione di un territorio è pronto ad accogliere una manifestazione così importante così prestigiosa facendo ovviamente in bocca al lupo prima di tutto lo spettacolo e poi la squadra che vincerà vincerà sicuramente la squadra migliore allora in vene di festeggiamenti questa sera perché abbiamo un cinquantesimo di matrimonio ed è quello di una coppia formata da Alfredo e Gaetana di Lucrezia di Cartoceto che festeggeranno domani 26 ottobre appunto i loro 50 anni insieme tanti auguri da parte dei parenti degli amici e ovviamente anche di tutti noi di Fano TV due di prossimo vi ricordo c'è l'appuntamento con Primo Cittadino il nostro ospite sarà il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri al quale potrete rivolgere le vostre domande sia al telefono che attraverso brevi messaggi di testo dopo il telegiornale c'è che tempo farà con i comici del San Costanzo Show l'informazione su Fano TV e sul canale 17 torna domani mattina alle ore 7 in diretta con la Rassegna Stampa arrivederci a Grazie a tutti.